si abbassa il passaggio a livello il zampa il passaggio a livello chiuso è sabato mattina siamo a maggio ore 8 e 06 il passaggio a livello di brebbia sulla linea novara laveno è sabato mattina siamo a maggio verso laveno verso novara il zampa siamo a brebbia al passaggio a livello sulla linea novara laveno il casello ferroviario abbandonato di brebbia sulla linea novara laveno verso laveno verso novara verso laveno il passaggio a livello chiuso zampa siamo a brebbia al passaggio a livello verso laveno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.